Civil Week 2024, ci troviamo immersi nella natura all'interno del Parco delle Cave, alla scoperta del mondo botanico, iniziativa organizzata da Cascina, gli amici di Cascina all'interno, in occasione appunto della Civil Week. Siamo qui con Marco Galasso, responsabile della sezione botanica del Museo di Storia Naturale, che sta spiegando a un gruppo di persone tutte le curiosità sulla fauna, sulla natura, che nasconde il Parco delle Cave. Proviamo a sentire con qualcuno che curiosità hanno scoperto che magari non conoscevano. Buongiorno, posso chiederle cosa ha scoperto, cosa gli ha raccontato il signor Marco che non conosceva? Beh, soprattutto i nomi delle piante, che vedi sempre, tutti i giorni, ma non sai come si chiamano. Ognuno ha una storia, è molto interessante questo. La ringrazio tantissimo, buona giornata e buona Civil Week a tutti!